Ciao a tutti, abbiamo caricato sulla piattaforma Rousseau, nella sezione Lex regionale delle mini-Romagna, un progetto di legge che riguarda le concessioni dell'acqua minerali. Concessioni che oggi sono inique perché vengono pagate a forfè ad ettaro e non viene pagata l'acqua che si consuma, l'acqua che si pompa per imbottigliamento o per altri usi. Essendo un progetto di legge del Movimento 5 Stelle è ovviamente in discussione su Rousseau per tutti i vostri contributi. Noi saremmo ben lieti di ascoltare i vostri suggerimenti. Grazie a tutti.